Salvataggio rane, questa volta un po' particolare. Le prime erano rane verdi, qui abbiamo un rospo bello cicciotto e un rospo minuscolo. Ora vi avviso subito, se avete paura dei serpenti, scorrete perché questa volta ne ho trovati davvero tanti. Guardate che belline, mi sa che hanno appena fatto colazione con delle rane. Eccone un'altra, questa un po' più grande. Un altro rospetto comune minuscolo. Una piccolissima, ovviamente natrice dal collare come le altre. E infine un'altra ancora, non ne ho mai trovato così tante nel canale. Quindi in totale sei natrice dal collare. E poi circa 35 rane verdi e tre rospetti comuni che ho liberato in riva al lago un po' bruscamente, scusatemi.